Ciao a tutti sono Bom777 e benvenuti nel primo contest del mio canale E il vincitore si porterà a casa Rami in forma Come potete vedere di questa settimana vale su 18-20.000 E partecipare è molto semplice, basta essere iscritti al mio canale Mettere mi piace a questo video, condividerlo e commentare scrivendo partecipo E se avete Xbox 360 o Xbox One Visto che questo contest è aperto solo a chi ha Xbox Alla fine di questa settimana, cioè domenica prossima Procederò con l'estrazione e contatterò io privatamente il vincitore Questo è un video breve perché dovevo fare l'apertura di un milione di crediti Ma questa settimana non ce l'ho fatta Cercherò sicuramente di farlo per la prossima Ho messo anche in descrizione dei canali Andate a vedere se vi piacciono Quindi è tutto e buona fortuna